Salve, parlo al nome della classe quarta della scuola Sandro Pertini di Uzzano. Noi abbiamo partecipato a questo progetto di Hunter per sensibilizzare i ragazzi che saranno gli adulti del domani. I bambini hanno scritto una poesia che trasmette amore e rispetto per il nostro pianeta. Saremo felici di vincere e poi vedremo come usufruire del premio. Mi raccomando votateci, quarta Pertini e grazie Hunter. Cari amici, votiamo il bel progetto della scuola elementare Pertini di Uzzano. Viva Hunter! Grazie per la visione!